Non dovete pensare ma come lo vendo, come l'acquisto, fa tutto il portale. Voi ovviamente guadagnate molto di meno dalla potenziale vendita perché giustamente il portale si fa un culo così al posto vostro, però può essere per chi parte a mio avviso una soluzione interessante. Stai ascoltando Crea il tuo corso, il primo programma in Italia che ti spiega in modo semplice e senza fronzoli gli strumenti, le strategie e le azioni necessarie per realizzare e vendere il tuo primo corso online. Le ultime statistiche dicono che le persone sono sicuramente molto interessanti alle informazioni, ma oltre alle informazioni anche alla parte di entertainment, di coinvolgimento. E quindi non per nulla un attore o un presentatore guadagna molto di più di un superluminare e questo la dice lunga. Quindi anche quando create, questa è una pillola veramente molto importante, anche quando andrete a creare il vostro corso su internet o magari anche dei webinar, delle robe del genere, pensate sempre in quest'ottica. Una parte di informazioni, ma l'altra deve esserci intrattenimento. La gente non compra solo informazioni, quelle le potete a volte dare veramente sul foglio di carta. Compra un'esperienza, compra voi, compra i vostri prodotti e servizi, ma compra tutto. Quindi compra 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora di tempo e di relax. Per cui tenete sempre presente questa cosa molto molto importante. E andiamo a vedere quali sono gli strumenti da usare, da imparare in qualche modo, per creare un corso su internet, un corso online. Non c'è un ordine particolare, nel senso che lì dovete più o meno avere tutti e li ho divisi soltanto per settori. Il settore principale, quello di cui Maurizio, che è collegato in questo momento, è un super esperto e magari lo intervisteremo anche durante il podcast, ci farà qualche cosa di particolare, magari per il corso, sulla creazione dei corsi veri e propri, è la parte di audio. Cioè, a meno che voi vogliate creare un PDF, per intenderci, o un documento puramente scritto, cosa che è sempre buona roba avere, per intenderci, dove non c'è l'audio e dove non c'è il video, avere una traccia audio o qualunque cosa che sia fatta sotto forma di audio è molto importante. Perché? Perché la gran parte delle informazioni, comunque vi assicuro, salvo casi particolari, gliele potrete dare durante una traccia MP3 o con una traccia MP3, molto molto semplice. Poi ci mettete le slide, ci mettete i video, ci mettete quello che volete. Però vi assicuro che la gran parte delle informazioni basta e avanza l'audio in molti casi. Quindi, se volete creare un audio, avete tanti modi per farlo. Il modo più semplice, cellulare, qualunque app, anche il registratore integrato, vi registra una traccia audio. Quindi io vi dico così lo smartphone con app integrata. Poi, a secondo che voi abbiate Apple o avete Android, potete andarvi a comprare N.000 app da gratuite a pagamento. Ma fondamentalmente un audio è sempre un audio. L'unica cosa, l'unica cosa che vi serve per l'audio, e qua Maurizio è veramente l'esperto, è il microfono. Ok, quindi microfono. Ce ne sono di tanti tipi. C'è il microfono Lavalier, per intenderci, il modello Lavalier, che è il microfonino che va da cravatta. Quindi da 10, 20, 30 euro, più o meno, una roba del genere, vi comprate il microfonino, lo attaccate qua, lo agganciate al cellulare, e vi registra un audio già molto, molto pulito. Altra opzione, potete usare un microfono come quello che sto usando io in questo momento. Adesso vi ripasso di qua la linea, così dovreste riuscire a vederlo. Cut. È uno classico Yeti. Ok, quindi microfono molto usato. Eccolo qua. Anche con la tazzina del caffè. È il microfono dello Yeti. Quindi un microfono da tavolo, che se non mi ricordo male, Maurizio, come dicevi l'altro giorno, chiamassi microfono a condensatore, a condensazione, una roba, condensatore, condensazione, sono le caldaie. Ok? Costi, anche in questo caso, non sono mostruosamente alti. Microfono a condensatore. Diciamo che possiamo andare attorno ai, diciamo, 50, 100 euro. Giusto per partire. Poi ne potete spendere anche mille, ma la qualità non è che poi, immagino, cambi in maniera così mostruosa. Poi vi serve un software per fare quello che è l'editing della traccia audio. Cioè, quando voi registrate un audio, a secondi dove siete, giustamente c'è il rumore di fondo. Se registrate in macchina, è un casino bestiale. Se registrate in ufficio, potrebbe essere che ci siano i rumori di fondo, che magari sono le luci, che c'è, ad esempio, io sotto qua a un ristorante, qui ogni tanto mettono la musica, si sente un po' di musica, è tutta roba che, magari durante una live, viene anche accettata. Io non sto facendo correzioni di rumore di fondo, però durante un video, durante qualcosa di preparato, non è molto accettabile. Quindi, vi serve un software. Il software, non tanto per la registrazione, se usate uno smartphone, quanto per l'editing successivo. ovviamente, se siete al PC e volete registrare il corso al PC, potete usare già tranquillamente il software per fare la registrazione. Ce ne sono anche qua di 200.000 tipi. Vi consiglio quello che lo stesso Maurizio ci consignava l'altro giorno, c'è Audacity, A-U-D-A-C-T che è gratis, 100%, sia Mac che Windows. E poi ci sono i vari Adobe, Adobe Audition, mi pare che si chiami, Audition, eccetera, eccetera. Ma per partire, mi assicuro, Audacity basta e avanza. Un microfono che mi sono dimenticato di citare, che risulta, adesso sto cercandolo se è ancora in giro, vado a prendervelo, è uno dei miei favoriti, ed è ottimo per le situazioni in cui c'è parecchio rumore di fondo e il microfono ha fatto così, il microfono ad archetto, quello delle, come si chiamano, delle tizie che lavorano nel call center. Ve lo prendete, ve lo mettete qua, con 30 euro avete un microfono da paura che il rumore di fondo ne prende pochissimi e secondo me vale assolutamente la pena avere sempre, e sempre sotto mano anche perché lo potete di nuovo collegare al vostro al vostro pc, al vostro smartphone e quindi vi fa un come dire, un lavoro veramente eccellente. Passo un attimo, anzi facciamo così, passo un attimo per vedere se ci sono delle domande sulla chat, il business non si ferma mai, solo se le chiami soluzione di lineare, ok, condensatore, sì grazie, sto rivolutando le cuffiette che sono molto easy per creare webina, bravo, ti metto anche il mi piace Maurizio perché devo dire che effettivamente hanno un costo ridicolo ed hanno una qualità veramente eccellente. Dall'alto della tua esperienza vi indico di registrare mentre sciate, cioè hai fatto un podcast mentre stavi sciando, questo è veramente strabitoso, non l'ho mai sentita, mitico, ok, grande Riccardo, quindi torno alla condivisione e passiamo invece alla parte video, ok, quindi abbiamo registrato l'audio, vogliamo registrare il video, quanti modi abbiamo per registrare un video? Infiniti, in particolare come sempre abbiamo il nostro smartphone, quindi se siete in esterna o anche in interna potete usare lo smartphone, vi scaricate il video in formato mp4 in generale sul vostro pc e poi dal pc fate un minimo di editing, il minimo di editing vuol dire soprattutto tagliare l'inizio, tagliare la fine, tagliare le parti dove dite delle bestiate quindi sapete già che vanno tagliate quindi vi serve fondamentalmente del software per fare questo. Quale software? Ve lo dico dopo perché rimaniamo in tema di registrazione del video. L'altra cosa che potete fare è usare la vostra webcam, sia la webcam del pc webcam integrata oppure delle webcam fighe diciamo o fighe fighe tipo logitech logitech e vi consiglio di prenderle già full hd ok? Quindi 1920x1280 adesso vado abbraccio così ultimamente ho visto mi ha consigliato mi ha girato un link l'altro giorno il buono Emanuele Properzi con cui ogni tanto si parla e si confronta di una logitech in 4k che fa delle robe spettacolari che costa circa 260 euro una roba del genere non so nemmeno se è visibile su Amazon eventualmente di questo vi faccio vedere i link si tratta quindi di una webcam esterna simile alle logitech che consiglio che trovate anche nella pagina delle risorse ma registra in 4k ora a mio avviso è tutto soldo sprecato se partite da zero se avete la disponibilità sicuramente è meglio averla da 4k che averla da full hd per intenderci ma io ne ho due una è full hd l'altra è altrettanto full hd ma diciamo riesce a fare lo streaming a una velocità un po' più un po' più lenta comunque una roba del genere ve la pagate al massimo circa attorno ai 100 euro e uno smartphone è gratis perché ce l'avete già discorso videocamere esterne come vedete anch'io qua ho un paio di videocamere esterne la risposta è che non le uso più non le uso più ormai da 4 anni 3 anni diciamo così ma quando in esterna uso anche qua il cellulare collegato però ad un microfono che andiamo a questo punto a lanciare qua microfono microfono tecnicamente detto shot shot gun o a canna di fucile praticamente è un microfono che voi agganciate qua oppure se avete un portacellulare lo agganciate sopra il portacellulare e vi permette di essere molto direzionale se volete una roba veramente fatta figa e avete una certa distanza dalla macchina da presa dovete utilizzare per forza un microfono lavalier wireless quindi ce l'avete lì agganciato e poi dopo trasmettete il segnale al vostro cellulare ma stiamo già andando insomma molto su con quello che riguarda il ve lo metto wifi barra senza fili senza fili nel caso in cui vogliate riprendervi tramite un cellulare ma con una distanza sensibile altrimenti molti dei microfoni lavalier quelli che trovate poi anche all'interno della sezione delle risorse di creato corso hanno un filo circa di un paio di metri quindi riuscite a riprendervi tranquillamente con il vostro smartphone e non avete problemi di audio perché utilizzate l'audio che prendete da questa da questa distanza quindi abbiamo visto lo smartphone le webcam videocamere videocamere professionali direi ormai in 4k anche no a meno che secondo me le abbiate già in dotazione o abbiate qualcuno che vi registra i video se dovete partire da zero comunque anche per un livello medio medio alto a mio avviso potrebbe anche non essere tutto questo vantaggio la roba che vi serve però assolutamente soprattutto se fate lavori in interni è un set di luci set di luci con soft si chiamano softbox per intenderci così pac sono le luci bianche tipiche degli studi di registrazione adesso vi faccio vedere bene o male anche le mie qua prendiamo la videocamera qua avete se non si stacca nulla una softbox ecco se riesco a prenderla un po' più da lontano qua c'è il pc qui c'è una softbox e là dall'altra parte qua c'è la finestra là dall'altra parte ce n'è un'altra io ne ho in realtà 4 di softbox una ogni tanto l'accendo anche dietro di me per dare profondità e tutto oggi non avevo voglia di accenderla e non l'ho accesa abbiate pazienza ogni tanto un po' di pigrizia ok quindi queste però sono importanti perché vi danno più luminosità e soprattutto luminosità stabile perché come dico spesso quando lavorate in interno e avete la luminosità che arriva da fuori una luce che arriva da fuori se fate le riprese mediamente lunghe c'è il rischio che cambi magari la la luminosità se non è proprio una bellissima giornata arriva il sole arriva l'ombra e si vede che cambia completamente quindi questo vi diciamo neutralizza il problema del cambio di illuminazione per quello che riguarda il software della gestione dei video ce ne sono di nuovi di tanti tipi io consiglio di partire con un ottimo prodotto che si chiama Filmora Filmora diciamo che ve lo potete cavare con circa una cinquantina di euro se no altro consiglio che do ma trovate poi tutti i vari singoli software all'interno della pagina delle risorse che dopo vi vi linko direttamente è tutta la suite di AVS 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 studio per intenderci fa software sia per la gestione dell'audio che per la gestione del video e io personalmente mi trovo bene da anni non ha delle funzioni super professionali per intenderci dai prodotti da 300 500 euro però ci va molto vicino a un costo che è di 50 euro praticamente per tutta la vita quindi pensateci credo che siano dei soldi molto molto ben investiti poi ho trovato anche il modo per avere qualche piccolo sconto se me lo dite vi giro il codice non è un codice affiliato è proprio un modo per risparmiare fin da subito resta ovviamente il tool ideale soprattutto per chi fa gli cosiddetti screencast screencast ok gli screencast sono le registrazioni dello schermo ci sono n.000 tool che fanno le registrazioni dello schermo dalla suite dvs filmora stesso farà registrazione ma diciamo che se volete fare le cose fatte per bene Camtasia anche se qua il costo comincia ad andare attorno ai 300 dollari o euro insomma più o meno direi che è di un livello totalmente differente e la cosa importante è che secondo me quando fate un video tutorial non solo riprendiate come sto facendo io in questo momento il desktop ma esattamente come state vedendo voi nella parte in basso o quantomeno poi dopo la potete posizionare dove volete avete la possibilità di riprendere anche voi mentre parlate questa roba qua non aggiunge nulla ai contenuti però aggiunge molto a quella parte che si diceva prima di engagement quindi i prodotti belli tipo Camtasia vi registrano da una parte il desktop tipo in un file mp4 al desktop in un altro file la vostra webcam che riprende voi e voi quando fate poi il montaggio avete di fatto due filmati diversi e potete decidere di far vedere uno far vedere l'altro farle vedere a metà metterli come cavolo vi pare e questo secondo me aiuta a creare coinvolgimento molto molto interessante da questo punto di vista vediamo se avevo altra roba negli appunti no ci sono comunque anche per quello che riguarda la parte di screencast i singoli software dentro nella pagina risorse del sito che per inciso ve lo scrivo già direttamente qua è come si chiama crea il tuo corso punto it slash risorse molto molto fantasioso eccomi come titolo andiamo nel frattempo a vedere che cosa ci dice la nostra chat su facebook condensatore vediamo un po' registrare mentre sciate ovviamente era uno scherzo 1080 1080 1920 per 1080 sì per 1280 per 1720 sì ogni tanto mi fondo anch'io con i numeri iper direzionale uso cam studio che è free e poi lo converte in mp4 sì ce ne sono ce ne sono tanti grazie grazie Maurizio la fantasia delle urla al potere e mi piace anche mi piace anche questo ok ora vedo che è un po' frizzato vediamo se è un problema mio o altro fatemi solo controllare una roba lo vedete anche voi frizzato giusto per curiosità perché io vedo tutto impallato adesso forse si è ripreso si è ripreso speriamo che fosse sonato il video e non anche l'audio se no amen passiamo di nuovo alla parte qua con con word e andiamo a vedere la parte delle scritte delle slide ora del fatto di dover aggiungere per forza delle slide all'interno del vostro corso pensateci bene non è detto che sia così importante e soprattutto non è detto che dobbiamo stare lì a creare delle slide super fighe se le slide ne parlo proprio in una puntata specifica del podcast quindi appena esce o sei uscita andatevi ad ascoltare in tre minuti non sempre c'è bisogno di fare le slide perché perché non state magari facendo un pitch un discorso davanti a cento persone pensate sempre lo strumento che state usando in funzione dell'obiettivo è utile la slide sì allora la uso è inutile la slide no allora non la uso quindi pensate questa cosa per creare delle slide potete usare tranquillamente a mio avviso google 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 presentazioni né più né meno secondo me avere powerpoint avere keynote se ce l'avete bene ma per creare delle slide perdono ho centrato il microfono per creare delle slide per un corso a meno che magari sia un corso di grafiche e volete far vedere le slide super fighe ok quindi diciamo il 99% dei corsi le slide sono di supporto alla vostra voce a quello che state raccontando quindi non immaginatevi non perdete tempo nella creazione di slide super fighe createne una e poi dopo clonatevi il template e basta ok perché la gente non sta lì non ne frega niente del quanto è bella la vostra slide se è carina va bene ma se è super bella non gli cambia praticamente nulla non vi dico di fare le cose male vi dico di fare le cose esattamente per quello che serve alla gran massa della gente che vi seguirà il corso ok siccome a creare delle slide belle graficamente e tutto ci vuole anche un po' di manico per intenderci e io non ce l'ho non ho questa sensibilità artistica nella creazione della slide mi concentro sulle cose realmente importanti che sono i contenuti come la slide è scritta e che va al di là diciamo della presentazione di oggi come la slide è curata come la slide si integra con il testo che arriva prima che arriva dopo con quello che state dicendo voi non sicuramente star lì a guardare tutti gli orpelli grafici se il colore è perfettamente non ce ne frega niente ok andate molto easy e nel dubbio una bella slide bianca con la scritta nera ha sempre risolto un sacco di matrimoni e di corsi su internet scritte rosse le slide vi ricordo che sono gratis sia nelle presentazioni del vivo che nelle presentazioni online quindi evitate ovvero è possibile di fare delle slide con centinaia di test di righe di test scritte piccole perché soprattutto da sti device non si vede una minchia quindi fatele di più e scrivetele un po' più grande ok e nel dubbio usate google presentazioni che va benissimo se poi avete il vostro keynote powerpoint keynote powerpoint o altre app del genere vi dico va bene tutto tanto che tanto che non per nulla oggi ho proprio deciso di usare il word processor processor tipo word per intenderci perché un editor di testo per intenderci editor di testo perché perché come ho visto fare da big luca sia live in alcuni dei suoi dei suoi video su youtube sia all'interno di un prodotto potrebbe essere utile e magari mi interessa anche sapere il vostro feedback in questo in questo momento delle persone che sono collegate com'è l'apprendimento di un contenuto abbastanza semplice in questo caso con la persona in questo caso il sottoscritto che sta compilando il tutto in diretta quindi senza delle slide pronte ma mentre io parlo e completo mentre scrivo e in più avete questo effetto in cui vi vedete anche mentre sto parlando ditemi la vostra impressione se è una cosa interessante sicuramente non può andar bene su tutto però è certamente un modo di spiegare molto che va a pari passo probabilmente con la modalità di apprendimento di molte delle persone quindi potrebbe essere interessante da sperimentare questo tipo di opzione fermo restando che manca tutta la parte grafica se dovete dare dei concetti magari più veloci in più tempo secondo me è meglio avere già qualcosa di pronto e non compilarlo in tempo reale questo sembra più un flusso di coscienza di James Joyce per intenderci però in alcuni casi potrebbe anche funzionare non so dove ci siamo persi il concetto comunque probabilmente eravamo a livello di word processor se vi piace questo tipo di modalità non è una modalità che io adoro per intenderci avevo fatto altri esperimenti che secondo me potevano essere anche più carini però ha obiettivamente una certa chiarezza cioè quando scrive il word processor tutti capiscono cosa stai scrivendoti è fatto in tempo reale per cui rimane comunque molto più lento come apprendimento e segue il discorso delle persone che stanno ascoltando e magari vedendo come avete visto voi per la gran parte di questo di questo live ma è all'interno di una picture in picture in basso in basso a destra quindi big luca ogni tanto fa qualcosa di buono non dice normalmente delle delle cazzate è stato lui assolutamente è stato lui almeno io l'ho visto per primo da lui poi francamente magari in america l'aveva già fatto qualcun altro io l'ho visto da lui ed è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare quindi vi chiedo siccome avete sperimentato anche voi in diretta questo tipo di modalità mentre scrivo via the word processor e mentre parlo se la cosa vi piace non è detto che sia per forza così per tutti infatti dopo vi cito anche un altro esempio recuperandolo da una pagina internet che ho visto in questi giorni di un'altra modalità per creare un corso dove io apparentemente dicevo che palle eppure i commenti che ha ricevuto questa persona erano commenti molto positivi quindi non fossilizzatevi su quello che per voi è la nostra modalità di apprendimento preferita perché potrebbe esserci un altro mondo al di là ok quindi a sto punto passiamo sperando incrociate le dita tutti insieme perché è importante che tenga lo stream comunque ho la registrazione nel caso ragazzi non è un problema passiamo di là e andiamo a vedere il discorso delle piattaforme per ospitare i corsi anche qua lato piattaforme ne ho parlato in maniera approfondita in tre o quattro puntate del podcast però in generale la piattaforma per ospitare i corsi vuol dire che io ho creato tutto il mio corso in pdf ho creato i video ho creato gli audio ho creato tutto quello che mi serve devo andarlo a ficcare da qualche parte in modo tale che chi ha comprato che vedremo come tra un po' il mio corso possa fruirne ok ci sono varie opzioni la prima opzione è metterlo sul tuo sito wordpress ok quindi creo un'area riservata riservata dentro wordpress tuo sito anzi così tuo sito soluzione ideale può essere vi servono dei plug-in in questo caso che tecnicamente vengono chiamati LMS cioè Learning Management System che si agganciano a wordpress e vi danno la possibilità fondamentalmente di creare delle lezioni dei moduli dei quiz e quant'altro tanti più plug-in completo complesso costa bla 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 tante più cose potete fare vantaggi e svantaggi vi permettono una personalizzazione totale dall'altra parte dovete essere un po' smanettoni e riuscire a mettere in piedi il vostro sito wordpress mantenerlo aggiornato quindi vero è che se potrai partire al limite anche da una roba totalmente gratuita ma il tempo e la difficoltà forse non è delle migliori non gioca a vostro vantaggio a meno che siate dei pesanti smanettoni su internet seconda opzione seconda opzione è usare delle piattaforme già pronte che sono dei portali portali diciamo un po' più generalisti passatemi questo termine esempio corsi punto it udemy e altri che ci sono insomma che cosa fanno questi vi danno la possibilità di pubblicare il vostro corso quindi vi registrate come autore avete il titolo create i contenuti pubblicate cioè fate drag and drop tirate dentro le lezioni e finite immediatamente all'interno del loro del loro portale visibili a chi fa delle ricerche e in generale anche facilmente acquistabili quindi non dovete pensare ma come lo vendo come lo acquisto e fa tutto il portale voi ovviamente guadagnate molto di meno dalla potenziale vendita perché giustamente il portale si fa un culo così al posto vostro però può essere per chi parte a mio avviso una soluzione interessante non solo può essere anche una soluzione interessante se non sapete fare troppo bene marketing all'inizio e quindi c'è il portale che fa marketing al posto vostro chiaro si tiene dei soldi ma all'inizio potrebbe essere un'opzione imparate a fare il corso cominciate a farvi comprare il corso il corso quello che lo completano vi daranno dei feedback i feedback li potete utilizzare per fare successivamente il marketing e poi eventualmente passare o a una soluzione di questo tipo una volta che avete capito poi dopo anche come venderlo oppure un'altra soluzione cioè chiamiamoli così SaaS software as a service quindi servizi servizi tipo dico così uno su tutti Teachable o Thinkific sono molto simili come caratteristiche io sono partito con Thinkific ultimamente sto utilizzando Teachable ma di fatto che cosa hanno questi servizi online vi danno la possibilità di avere già tutto pronto l'interfaccia vi fanno caricare le varie lezioni quindi diciamo che assomigliano un po' a questo discorso ma senza il problema di dover aggiornare WordPress installare WordPress doverlo personalizzare e quant'altro quindi vi tolgono tutta la parte di gestione di WordPress e vi lasciano invece la parte di gestione delle lezioni chiaramente questi non sono gratuiti però diciamo che con una quarantina di euro al mese ve la potete più o meno cavare per le esigenze di base o anche discretamente avanzate non sono per nulla male perché fondamentalmente vi potete concentrare solo sulla delivery del vostro prodotto vi permettono una forte interazione vi permettono di dividere le lezioni di creare delle lezioni che vengono rilasciate a distanza di alcuni giorni o di alcune settimane di ospitare dei commenti quindi una soluzione a mio avviso interessante se avete già un corso pronto o se non volete finire su dei portali che si prendono magari molte commissioni a cambio ovviamente del marketing e sulla quale volete avere totalmente il controllo quindi ciò che pubblicate qua è vostro avete il controllo del contenuto avete il controllo del marketing pagate semplicemente la piattaforma potete anche sfruttare dei servizi come Kajabi ClickFunnels Funnels se vogliamo possiamo mettere anche il nostro Builderall 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 Funnel semplice e ce ne sono tanti altri l'evidente insomma svantaggio che costano mediamente secondo me da 100 euro al mese in su non per nulla alcune persone che ad esempio stanno usando Kajabi e sono diciamo dei bravi marketer anche nel mondo online stanno ripassando verso piattaforme tipo questa oppure questo personalizzato con dei plug-in che a 300 euro all'anno vi risolvono tutti i problemi quindi ovviamente dipende molto dal budget che avete a disposizione da quanto è complesso il vostro funnel di marketing da tanti veramente da tanti fattori in generale se partite da zero fondamentalmente non vi consiglierei nessuna al momento di queste soluzioni con forse l'eccezione di Builderall ma ma prendetelo con le molle con l'asterisco perché ne ho solo sentito parlare non ho mai creato un corso all'interno di Builderall potenzialmente si potrebbe fare a un costo apparentemente accettabile bisogna capire se la piattaforma che è un po' generalista che vuol fare un po' di tutto sta insieme oppure no quindi è un unico asterisco se partissi da zero io francamente se non so fare marketing butterei un corso qua se comincio a saperne di più metterei un corso Teachable o Thinkific e eventualmente se ho anche un po' di conoscenze tecniche all'interno di un sito WordPress mio comprando dei plugin ce ne sono di vari tipi di plugin da potete utilizzare Academy potete utilizzare LearnDash LearnDash e poi potete utilizzare la suite di Thrive Teams che non costa pochissimo siamo attorno ai 30 euro al mese ok solo di quest'ultima Academy credo che costi qualcosa one shot tipo 60 dollari LearnDash siamo a un po' di più siamo attorno ai 300 più 130 all'anno prendete con le molle questi questi valori però di fatto si tratta di spendere 300 più 130 qua ne spendete 400 ma al mese e qua ne spendete 100 al mese qua non ne spendete nulla però vi mangiano un sacco di commissioni perché giustamente fanno il loro lavoro e fanno marketing al posto vostro quindi non dovete fare lead generation non dovete generare traffico perché ci pensano ci pensano loro ok tutto chiaro andiamo a vedere allora le piattaforme per vendere prima però controlliamo anche se sta tutto insieme e se ci sono domande allora 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 vediamo un po' le domande Big Luca qualcosa sì 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 ma qua non funziona più il link il click quindi vediamo se se non riesco più scrollare i commenti io perfetto quindi evidentemente facebook non digerisce molto anzi adesso sembra addirittura di nuovo impallato il video è veramente veramente strano ok quindi seguiamo trans no non questo devo andare di qui la piattaforma per vendere se partite da zero e usate questi prodotti fondamentalmente non avete bisogno di piattaforma per vendere perché come vi ho detto prima c'è già la pagina di vendita l'unica cosa al massimo che dovete mettere voi lì è una piccola presentazione del vostro corso potete mettere anche un mini video in molti casi soprattutto nel caso di corsi di corsi.it che è un po' più selezionante come software meno generalista di Udemy quindi un po' più di qualità in qualche modo e poi fa tutto lui comprate o meglio la gente compra il corso viene sbloccato voi vedete che vi arrivano i soldi avete il vostro pannello gestiti i commenti gestiti i feedback allo stesso modo succede qua dentro una pagina di Teachable di Thinkific avete una volta che avete pubblicato il corso una pagina che è una landing page dove potete metterci tutto l'html che volete un po' a differenza degli altri due dove avete un po' più di limiti potete scrivere tutto quello che volete potete mettere dei video includere video esterni delle immagini questa diventa la vostra pagina di vendita se la gente acquista acquista si sblocca il corso e di nuovo rientrate nella condizione tipo questa quindi gestite follow up e quant'altro l'altra cosa invece che dovete fare è che se avete creato il vostro sito personalizzato con tutto dentro wordpress oppure kajabi uno di questi dovete crearvi una vera landing page una landing page o pagina di vendita di vendita ve la dovete creare a manina a mano diciamo barra con dei modelli però potete sfruttare queste piattaforme che ne hanno già una infinità di di pagine di vendita predisposte è chiaro che a prescindere dalla pagina di vendita parliamoci chiaro quello che farà la differenza sarà la vostra video presentazione magari due minuti tre minuti del vostro corso la descrizione del corso e i contenuti in qualche modo del corso poi dal punto di vista grafico sicuramente qualcosa che è strutturato bene ben fatto vi aiuterà a vendere di più ma in generale anche no quindi focalizzatevi sulle cose principali il video le caratteristiche diciamo l'elenco dei contenuti e una descrizione che spesso è lo sbobinamento di quello che c'è nel video senza andarci troppo a complicare la vita quindi la piattaforma per vendere in generale è semplicemente qualcosa che avete già a disposizione se volete andare molto 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 sul semplice cosa che ogni tanto ho visto fare soprattutto se avete già un discreto seguito sui social magari avete un podcast avete una piattaforma un un canale abbastanza seguito su su telegram avete magari youtube dove siete ben posizionati potete anche mandare un link diretto alla pagina d'acquisto ok che non è proprio la presentazione è già quella dove c'è volendo il carrello compra qui paradossalmente potreste addirittura mandare la gente a comprare il vostro prodotto creato su paypal qual è il vantaggio svantaggio è che mandare la gente su una pagina di questo tipo le conversioni gli acquisti a volte non sono stratosferici però se siete ben posizionati potrebbe già funzionare l'altro problema è che da paypal alle piattaforme piatta piattaforme potrebbe diventare un casino se non usate dei servizi di integrazione cioè qual è il problema che se voi mandate la gente la gente compra da paypal e voi il servizio magari l'avete ospitato su teachable o sul vostro sito o anche su kajabi ok un posto che mi sembra strano che facciate comprare la gente da paypal quando avete a disposizione i kajabi però mettiamoci pure in questa situazione abbastanza assurda e al limite dovete dire che dovete capire che la gente che ha comprato da paypal deve avere sbloccato il corso dall'altra parte e quindi ci sono due modi per farlo il primo è il modo che a mio avviso all'inizio potete anche permettervi di fare è quello di dire ascolta io il corso te lo sblocco a mano ok ci vuole poche ore tanto guardi la mail ogni ora hai il tempo tecnico di creare l'utente dall'altra parte all'interno della piattaforma ed è tutto a posto e all'inizio a mio avviso potrebbe anche essere una cosa che funziona ok non è una roba ideale però potrebbe anche andare dall'altra parte ci sono dei tool tipo iftt if this than that oppure zapier che ve lo metto qua iftt o zapier che cosa fanno captano agganciano un sistema di pagamento con il sistema di erogazione dei corsi e nel momento in cui vedono che c'è stato un acquisto da questa parte vi sbloccano il corso dall'altra parte vi mandano una mail però anche in questo caso non sono piattaforme proprio alla portata di tutti sono semplici ma non sono semplicissime quindi il mio suggerimento è se volete fare le cose semplici le comprano su paypal se non avete modo di automatizzare il tutto nel giro di poche ore gli mandate una mail dicendo questo è l'accesso vattene di qua l'ho fatto anch'io all'inizio e ogni tanto lo faccio ancora se sto testando delle cose quindi non impazzite da questo punto di vista se una persona vi deve rompere le scatole vuol dire che probabilmente non avete comunicato abbastanza bene prima il fatto che può aspettare 3 ore 5 ore ok successivamente la vendita tramite paypal immagino insomma che tenderà a sparire o a essere agganciata a roba del genere oppure andate a sfruttare dei servizi già pronti tipo tcvol.in.chifico oppure la vostra area riservata dentro il vostro dentro il vostro sito per finire per finire ci sono le piattaforme di follow up cioè ok io ho comprat la gente mi ha comprato oppure la gente mi sta seguendo ma poi come faccio a continuare a mantenere le informazioni potete usare i bot e potete usare gli autoresponder autoresponder barra i software di newsletter mailing list diciamo così mailing list perché? perché nei software in particolare in questi ma in realtà potete farlo anche qua potete creare due liste diverse dalla parte la gente che vi segue dall'altra parte la gente che ha comprato da voi un corso o un certo tipo di corso oppure lista generale dei clienti che hanno comprato qualunque cosa da voi e quindi da lì c'è il follow up e da qui c'è l'esigenza di comunicare con loro attraverso la mail potete ovviamente continuare a farlo attraverso i social ma il social magari oggi c'è domani il social non c'è cambia le regole le regole della mail al di là dello spam sono molto più universali in qualche modo vero è che non viene più seguita come prima che è una mail è una roba per vecchi tutto quello che vogliamo ma alla fine la mail meno male ce l'hanno ancora ce l'hanno tutti ok soprattutto se hanno una certa età in su e quindi hanno possibilità di spesa ma per fare qualunque cosa su internet c'è bisogno di una mail mediamente quindi direi di non porsi troppi problemi chiaro tassi di apertura dell'email 60% attualmente ve li potete scordare menti con chi io e meglio per certi versi pochi ma selezionati quindi nella creazione di una vostra mailing list metteteci se l'avete fatto a manina le persone che sono che vi hanno comprato il corso oppure se avete ma andiamo diciamo al di là del contenuto di questo di questo video se avete quello che viene chiamato una squeeze page un modo per catturare l'email dei vostri contatti dandogli un'offerta gratuita un contenuto gratuito in questo caso la mailing list vi serve per tenere tutte queste email di potenziali potenziali clienti state attenti che spesso i software di mailing list vengono pagati non in funzione di quante mail spedite ma di quante mail avete all'interno del database e qui non tutti alcuni funzionano in base alle mail spedite per cui dipende se preferite raccoglierne tanti di mail oppure se preferite raccoglierne poche e selezionate e spedire più mail a queste persone dipende in generale dal vostro business vi do dei nomi giusto per dare un'idea io per esempio sto usando non mi trovo malaccio con sending blue che ha una versione gratuita discreta per fino a un pari mille o duemila duemila utenti altrimenti c'è l'eterno mailchimp e poi si sale di livello con i vari active campaign eccetera eccetera insomma c'è nessuno pain e altri nmila software tipo aweber 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 get response ogni giorno nasce un nuovo sistema insomma per gestire le mail magari ne parleremo in maniera specifica in una serie di puntate anche collegate al podcast però è importante a mio avviso avere un sistema che gestisce le mailing list e se volete fare le cose per bene anche un sistema che gestisce i bot in particolare i bot su facebook su messenger ma vedo che cominciano a arrivare anche sistemi per whatsapp e anche per il gruppo telegram potreste creare un gruppo telegram riservato ai soli clienti in cui vi scambiate delle informazioni e c'è magari possibilità di mandare un bot anche in questo in questo caso non vi dico i nomi per creare i bot perché comunque è una roba abbastanza da smanettoni quindi esula un po' dal contenuto però se dovete crearli eventualmente contattatemi vi posso dare tutte le informazioni nel caso torniamo quindi in diretta vediamo se tutto sta procedendo si sta procedendo la parte di pagamenti nella soluzione personale Riccardo non mi ricordo adesso su due piedi che cosa intendi dire con la parte di pagamenti nella soluzione personale se è riferito al discorso di paypal o se stai parlando proprio di te stesso che magari è la cosa più più delicata vediamo se c'era sopra io ti vedo va pagata la bolletta a facebook va pagata la bolletta a facebook ma è lentissimo non so perché nei tempi di risposta nei tempi un po' africani ok direi che no ho già risposto perfetto non mi ricordo la domanda cioè non ho capito la domanda però se hai detto che ho già risposto va bene la prendo la prendo per buona quindi direi che potremmo anche questa roba buttarla all'interno del podcast lasciandovi tutte le risorse del caso ma prima vi faccio vedere per l'appunto le risorse del caso cioè se andiamo su crealtocorso.it slash risorse trovate le risorse per l'audio le risorse software per l'audio quindi qua erano le risorse hardware cioè microfoni fisici e qua software video ecco qua le logitech che sono le due che avete visto oggi poi ce ne sono altre c'è anche il discorso delle lampade i software da utilizzare anche qui vedete Filmora Camtasia Premiere bla 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 software per fare screencasting quindi registrare il vostro desktop e poi una cosa banale che sembra banale ma in realtà è piuttosto importante se state tanto tempo al pc e vi consiglio in base anche all'esperienza di mia moglie compratevi degli occhiali neutri o da vista eventualmente se ce l'avete da vista dovete rifarli che scherpino la luce blu che alla lunga tende a infastidirvi pesantemente e a stancarvi se non l'avete ancora fatto seguitemi sul canale Telegram e qua trovate anche gli ultimi podcast che sono usciti quindi avevamo parlato di slide ah ok quindi l'ultimo corso era proprio quello delle slide perfetto l'altra cosa che volevo condividervi l'avevamo già detta prima era il software invece per tagliare il tagliare il tutto tutte le scemenze qui mi ritorno della nostra chat qua in diretta non so cosa costino le luci blu però se devi rifare gli occhiali ti assicuro Maurizio di farlo io personalmente anzi vi dico questa cosa che a livello di marketing è interessante ho appena rifatto gli occhiali in realtà li ho rifatti 6-7 mesi fa e ne ho presi due paia quindi mi hanno upsellato questo paio di occhiali e l'upsell del in realtà è un down send però comunque mi hanno venduto un paio di occhiali di riserva diversi rispetto al primo paio di occhiali e mi hanno detto se volevo gli occhiali trattati per la luce blu ok problema non sono stato in grado di farmi venire abbastanza l'acquolina in bocca stavamo parlando di 50 euro una roba del genere quindi non una roba mostruosa il trattamento anti luce blu e quindi non li ho presi poche settimane dopo mia moglie fa un articolo per un blog di Guglielmo Arrigoni che è un amico che vive in Svizzera fa digital marketing in Svizzera e si occupa soprattutto di email marketing e scrive questo scrive questo articolo e nel frattempo lo guardo anch'io perché mi piace comunque dare un occhio a capire di cosa parla e doveva fare questo articolo per un ottico e spiegare l'importanza della luce blu o meglio degli occhiali che tolgono la luce blu quindi io mi guardo tutta questa cosa qua articolo denso interessante e dico cazzarola allora era interessante potenzialmente avere gli occhiali anti luce blu ma vi dirò di più mia moglie era andata poco dopo me a fare la visita e nel frattempo aveva scritto l'articolo quindi si è fatta fare gli occhiali anti luce blu ma aveva anche i vecchi occhiali e siccome lei non aveva cambiato la graduazione a differenza mia come sto diventando un po' vecchietto quindi era cambiata leggermente può usare liberamente i due occhiali non le cambia praticamente nulla ora sarà come si dice che magari si è fatta coinvolgere o che altro quando utilizza gli occhiali nuovi anti luce blu è molto più rilassata al termine della giornata al di là delle figlie che ti fanno incazzare per scendere però diciamo dal punto di vista del del lavoro è molto più rilassata dal punto di vista oculare e quindi dice no effettivamente io ho provato ogni tanto faccio il test utilizzo i vecchi occhiali senza filtro e occhiali con i filtro anche lei lavora col notebook tutto il giorno e ha notato la differenza quindi consiglio spassionato se volete investire 50-60 euro per la vostra salute futura fatevi gli occhiali anti luce blu ok è molto semplice per inciso però è uno spottone per chi vende occhiali ma in realtà è anche un modo per dirgli imbecilli capite che potete fare una vendita veramente molto molto facile se solo foste in grado di spiegare questa cosa quindi imparate c'è sempre da imparare anche quando le gente fa delle bestie hai appena ascoltato crea il tuo corso per ricevere ogni giorno nuove strategie strumenti e suggerimenti per creare e vendere il tuo corso online iscriviti al canale telegram chiocciola crea il tuo corso e partecipa soprattutto ai live su facebook alla pagina facebook crea il tuo corso